Una prestigiosa onorificenza è stata assegnata al maestro Vincenzo Orsino. Si tratta della stella di bronzo al merito sportivo per l'anno 2016. Il CONI ha ritenuto di pregiare il maestro Orsino di tale illustre riconoscimento sulla base delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale. Con questa onorificenza, l'Organizzazione Sportiva Nazionale, oltre che attestare le sue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimere profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l'impegno dedicato allo sport in tanti anni di servizio dal maestro Orsino. Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel proseguo dell'attività possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni. Sono state le parole che il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, italiano, dottor Giovanni Malagò, ha inviato tramite lettera al maestro Vincenzo Orsino. A questa missiva è seguita un'altra, a firma del presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero, che recita testualmente Il lungo cammino da te condotto greggiamente e ricco di gratificazioni ti vedrà protagonista in un nuovo traguardo raggiungere la stella di bronzo al merito sportivo, infatti il giusto riconoscimento che il CONI, massima autorità sportiva, possa concedere a chi, come te, si è distinto per spessore morale ed etico all'interno del mondo sportivo. La consegna della stella di bronzo al merito sportivo avrà luogo il prossimo 16 marzo presso il Consiglio regionale della Calabria, Sala Calipari.